Ciao ragazzi, prima di iniziare col video vi faccio un piccolo minuto in un sponsor dove se volete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente contagiosi ci sono gli amici di Eneba e potete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente bassi oppure se volete delle gift card potete andare sul sito, sul loro sito di Eneba, degli amici di Eneba vi lascio il link qui sotto e pure in descrizione e niente, vi lascio al video, ciao ragazzi e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi sono qui e vi faccio vedere questo nuovo film che ho recuperato in Blu-ray con Kenny Reeves e sto parlando di Ultimatum alla Terra questo quasi quasi me lo vedrò stasera comunque ecco con la copertina, Kenny Reeves, Ultimatum alla Terra bella questa immagine, questa è l'immagine di copertina ragazzi molto bella, qui abbiamo il laterale, Ultimatum alla Terra qui abbiamo il retro, scatena la distruzione costruite il vostro port, entra nell'invasione qui c'è un po' di trama, disco 1, i contenuti speciali che vi potete mettere in pausa il video e vi leggete ragazzi eccoli qua disco 1, il film durata 103 minuti circa qui c'è il retro e qui ragazzi c'è l'interno con i due Blu-ray con i due dischi uno c'è il film e l'altro i contenuti speciali e niente ragazzi mettete mi piace, commentate qui al canale noi come sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti belli ciao ragazzi se volete comprare il mio merchandising vi lascio il sito qui sotto in descrizione ci sono le felpe come questa che indosso io con il mio logo qui oppure oltre alle felpe ci sono le t-shirts in vari colori ragazzi e niente detto questo qui sotto in descrizione troverete il link sul loro sito le ordinate e vi arrivo a casa e niente ciao tutti belli